Quattro gol al Pescara, quattro punti di vantaggio sui play-out. Per la Vispesero la vittoria più bella dell'anno coincide con la miglior classifica della stagione. Una condizione che porta i biancorossi sabato al derby di Recanati alle 18.30 al cospetto di una Recanatese avviluppatesi in un tunnel di sei sconfitte consecutive. Per banchieri il successo sul Pescara deve ora dare un pieno di convinzione verso una partita probabilmente ancora più difficile. Eravamo felicissimi e lo siamo tuttora di una bella vittoria giocando bene contro una squadra forte e prestigiosa però poi finiva lì, finiva in quell'oretta, chissà, e mezza di essere felici. Poi dopo sapevamo già sabato che abbiamo tante partite complicate sapevamo già che ci aspetta un derby importante un derby che ci teniamo tutti tanto i ragazzi, tutti noi, il club, i tifosi ci tengono tanto un derby quindi è già finita come ho già detto dopo la partita di Pescara un'oretta e mezza dopo il nostro focus e la nostra testa e sulla partita di Recanati che sappiamo che è una partita importantissima è decisiva, è importante ha tante caratteristiche tutte dentro la stessa partita e poi come ho appena detto è un derby quindi una partita diversa dalle altre che va giocata con un'emozionalità diversa dalle altre queste sono tutte cose importanti che noi dobbiamo preparare al meglio per questa partita ecco